Buongiorno ragazzi, buongiorno, andiamo al lavoro, c'è un sole bellissimo, Lorenzo è stanchino Oh signore, mi vedete? C'è un sole bellissimo, Lorenzo è stanchino, oggi ci sono un pochino di cose da fare al lavoro Sto finendo un corso, o meglio ho finito il corso di questo software che mi è stato chiesto di imparare per gestire a livello aziendale i dati Come data engineer e oggi devo fare l'esame, o meglio ci ho provato ieri a fare questo esame e il minimo per passare è l'80% Quindi tu su 50 domande tende a fare tot e risposte multiple deve essere perfetta Quindi se ci sono 5 opzioni, cioè su 5 opzioni possibili, 2 sono giuste, tu devi azzeccarle entrambe Altrimenti è tutto sbagliato, non puoi frazionare il punteggio Fatto stacco ho fatto 76%, quindi oggi ci voglio riprovare Mannaggia loro, è caldino in macchina, speriamo che non sia bollente No, perfetto Perché se no non avrei avuto tempo di bermelo a casa Infatti penso che sarà una strategia dura in avanti, visto che mi devo fare ogni volta mezz'ora di macchina Per il traffico che ultimamente lavori ovunque, per via della TAV Che insomma trasporti a alta velocità e che devono passare da Verona E passano esattamente nel raccordo dove passo io Tra l'altro la mia amica mi ha detto che abita lì vicino Mi fa che da quando ci sono i lavori ci sono pantegane ovunque, topastri Perché gli hanno tolto le tane, le hanno scacciati Allora queste bestie fischiano, sono cattive, no? E quindi te le trovi ovunque Ha detto che questi topi hanno attaccato le sue galline Ragazzi se non l'avete già fatto vi ricordo di mettere mi piace Perché insomma mi date una mano in questo mio progetto giornaliero di Daily Vlogging Che è più da sei mesi, che porto avanti E almeno insomma mi supportate, mi fa più che piacere E soprattutto se vedo che dall'altra parte c'è interesse io continuo a farlo Vabbè che lo faccio per me, però sono anche più incendivato Se vedo insomma qualche views, qualche commentino Sono umano, non sono una macchina Quindi un feedback mi fa sempre piacere Ole, ancora rosso Via Ah mamma mia ragazzi, è finito il lavoro Ora andiamo aperitivo e poi direttamente in palestra Diretti Ragazzi se c'è una cosa che mi dà fastidio in generale Sono i ritardatari Cioè quando ti metti, ti dai un orario E organizzi E si arriva lì? No E poi non si arriva Ecco in questo caso sono io il ritardatario Mannaggia me, 4 minuti di ritardo E vabbè, vabbè, neanche troppi E anche oggi ragazzi mi dimentico la videocamera Mannaggia Niente ragazzi, si va a negozi C'è l'adorabile qua Quanto costa? Ma c'è ma siamo pazzi? Niente ragazzi, anche oggi niente palestra Alla fine, che vergogna Più che altro ora sono tipo le 8 e qualcosa E ho un po' di fame E visto che è tornato anche mio papà a casa E l'Anelli soprattutto Dico vabbè, sto un po' con loro E la palestra ci vado Domenica sicuramente non ho impegni Quindi potrebbe essere domenica benissimo Mannaggia Ma c'è più caldo non che ne ha altre ragazzi Cioè uno anche impegnandosi Anche facendo un po' di tutto Non si riesce Oh, eccolo lì Non me l'hanno portato via C'è la multa? No, dai Vai giù, vai giù Come è? Come è? Ciao, ciao, ciao Santo cielo Cioè avete mai visto una roba così carina? Una roba così carina Andiamo Fai E al diavolo il minestrone ragazzi Stasera ci facciamo una pizza Perché c'è il mio papà, il mio fratello C'è la Juve che gioca E la impara mi ha appena segnato Quindi hai voglia E quindi pizza Ragazzi se non l'avete ne ancora fatto Mi raccomando Mettete mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Il mio algoritmo funziona Solamente se voi lo Insomma lo stuzzicate Con queste interazioni E quindi ci vediamo nel video domani Alle 11 Grazie come al solito di tutto Grazie a tutti Grazie a tutti